...da sentire parlare del quartiere dopo l'estate, di stupri da parte di quel punto l'uomo che si spacciava per la felicità di Monica e si guardava il suo accendente su una ragazzina, per il quale, quanto pare, continuò ad avere propria ossessione. Dall'alante del cellulare, i giovani sono saltati fuori tantissime foto e chat, con il mio re, con tutti i bambini, e non so... Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.